Oggi vediamo un nuovo concerto, stiamo cambiando quello che è il modo di vivere la lobby. Una volta nella lobby ci si passava per prendere le chiavi, oggi invece ci si vive un'esperienza. Si chiama Lobby Alive perché è viva, divisa in diverse aree e segue il concetto di passeggiata milanese. Quindi vuole rivivere un po' quelle esperienze che si vivevano nei salotti milanesi con la loro eleganza e anche il concetto della Milano da bere e la Milano che lavora. L'idea è un po' la Milano da bere, quindi per questo abbiamo creato anche un pop del bar. L'idea è un po' la Milano da bere, quindi per questo abbiamo creato anche un pop del bar.